Dobbiamo andare dal nostro doc? Eh sì, perché ci deve dare i consigli utili, perché se abbiamo un strappo muscolare dobbiamo sapere esattamente cosa fare. Quando è che ti strappi tu? Mi sono strappato sabato bevendo la terza media mentre suonavo. Andiamo alla fira snurata. Buonasera Luana e buonasera ai tuoi ospiti e ben ritrovati. Dopo l'episodio sfortunato in corso a Bruno Martella che è costato la sconfitta con il Milan, questa sera parleremo di infortuni muscolari. Le lesioni muscolari infatti hanno un'importante rilevanza nel mondo dello sport. Si stima infatti che per ogni stagione ogni squadra incorrerà in 15 lesioni muscolari con una perdita totale di 37 match da parte degli atleti. Queste lesioni tipicamente si verificano durante le fasi di accelerazione e coinvolgono principalmente i muscoli con architettura complessa o con alta prevalenza di fibre di tipo 2 ad alta velocità di contrazione, come il bicipite femorale, il flessore di ginocchio e meno frequentemente i muscoli del polpaccio. Nonostante ancora molto dibattuta, la classificazione è molto importante in termini di prognosi e gestione terapeutica. La classificazione più recente divide le lesioni muscolari in 5 gradi di gravità, suddivisi per dimensione del danno. Caratteristiche supplementari sono la zona e la localizzazione di lesione. Più il grado elevato, più il tendine e l'inserzione sono coinvolti, maggiori saranno i tempi di recupero. L'atleta spesso descrive un dolore improvviso, acuto e ben localizzato. La valutazione ha il fine di determinare sede e gravità della lesione. Con grado 0, invece, si intende una lesione funzionale in assenza di danno, come ad esempio una contrattura muscolare. In questo caso, il coinvolgimento e i sintomi sono più generalizzati e i tempi di recupero sono più stretti. Secondo le dichiarazioni di Mr. Corini nel dopogara, Martella ha riportato un indurimento del polpaccio. Quindi, il quadro clinico, previ a visione degli esami strumentali, sembra chiaramente più favorevole. A questo proposito, è consigliabile eseguire una risonanza magnetica o un'ecografia 48 ore dopo l'infortunio. Tuttavia, i risultati di questi esami non sono una garanzia per il ritorno in campo, in quanto è necessaria una valutazione complessiva. Il rischio di recidiva è molto elevato, fino al 64%. Pertanto, la gestione terapeutica è molto complessa e deve essere estremamente personalizzata. Gli obiettivi sono favorire la guarigione biologica e il recupero della funzione, facendo attenzione a ridurre il rischio di un nuovo infortunio. Per questi motivi, quindi, la difficoltà maggiore è individuare il carico ottimale per un graduale ritorno allo sport. Per questa settimana ci fermiamo qui, ci vediamo fra 15 giorni.